Si apre il caso Campania con il governatore Vincenzo De Luca che ringrazia l'ambasciata Mosca e annuncia in diretta social l'acquisto tramite la soresa della fornitura del vaccino anti-covid-19 Sputnik. Sono stati siglati i cosiddetti accordi congelati che cioè saranno attuati non appena l'EMA darà l'approvazione all'uso del farmaco. Sollecitiamo il governo e l'AIFA a muoversi perché sono tempi di guerra. Ma la mossa di De Luca viene subito gelata dal premier Mario Draghi che frena gli entusiasmi intorno al siero russo. Non si prevede che l'EMA si pronunci prima di 3-4 mesi dice Draghi e quindi il vaccino non sarà disponibile prima della seconda parte dell'anno. Sul tema interviene anche il presidente del Veneto Luca Zaia che spiega che comprare vaccini non è come acquistare grappa barriccata. Ma nella sua diretta De Luca si è visto anche costretto a smentire una notizia falsa diventata virale secondo cui si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico in una clinica nel Veneto a Peschiera del Garda. Ringraziato il signore, godo di ottima salute toccando tutto quello che si può toccare. In Campania abbiamo bisogno non del doppio vaccino ma del quadruplo vaccino per combattere i porta seccia. Sono soggetti, metti male, scampa forca direbbe Manzoni. Intanto in Campania risalgono i contagi e il governatore invoca rigore e prudenza in vista della Pasqua. La regione resta zona rossa con 1947 nuovi positivi e la curva della positività che risale sopra il 10%.